Tifosi Nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana e benvenuti a Lisbona, teatro della quinta giornata del gruppo D di Youth League, è il giorno di Benfica-Inter. Bovo, Di Maggio controlla, può andare al tiro, Di Maggio, solo forte, Motta, Berenbruck, Quieto, si muove Spinacé, Quieto torna ancora da Berenbruck che cerca il fondo, Berenbruck per Sar con il tacco, pallone che passa e lo mette dentro Quieto, 1-0 Inter al minuto 49, gol pesantissimo. Ha cominciato molto bene questo secondo tempo la squadra di Kivu e con una bella azione sviluppata quasi tutta di prima dai giocatori Nerazzurri, la palla in mezzo per il colpo di tacco di Sar, che diventa involontariamente un assist per Daniele Quieto che quest'azione l'aveva cominciata e la chiude in estirada, invece va Diogo Prioste, pallone che passa e pareggio immediato del Benfica. Con Nuno Felix che trova subito il gol dell'1-1, è durato veramente pochissimo il vantaggio dell'Inter, nuovamente sulla destra il Benfica, si muove in mezzo Nuno Felix, parona rimorchio per Rafa Luis, che va un passo dall'angolino e ha un passo dal 2-1. Arriva Motta, palla dentro per Zuber, è anticipato, di nuovo Quieto, calce in porta, ancora con il destro e sfiora l'Euro goal. In manaterra ai due, non si ferma l'azione del Benfica che attacca dalla sinistra con Ivan Lima in area di rigore. Ivan Lima, crossi in mezzo e si divora. Il gol del 2-1, Rodrigo Rego, quasi da dentro la porta. Rodrigo Rego si accentra, va in porta col sinistro, palo clamoroso. Sfortunatissimo nel centrare il palo. Finisce 1-1 tra Benfica e Inter, discorso qualificazione rimandato all'ultima giornata. Finisce 1-1 tra Benfica e Inter, discorso qualificazione rimandato all'ultima giornata.